Mister, è arrivato un pareggio 0-0 qui al Barbetti, è stata una partita molto equilibrata. Lei come l'ha vissuta da Bordocampo? Credo che nel primo tempo noi abbiamo tenuto più palla, abbiamo fatto girare bene, abbiamo avuto anche qualche occasione. Nel secondo tempo abbiamo sprecato qualche palla buttandola in avanti, concedendo le ripartenze al Gubbio. Risultato che tutto sommato a me va bene e sono contento della prestazione dei ragazzi. Quali sono le indicazioni che ha avuto da questa partita molto equilibrata? Dobbiamo rimanere sempre compatti, siamo una squadra che se si allunga rischia, quindi dobbiamo rimanere corti, accorciare gli spazi. Oggi l'abbiamo fatto bene, indicazioni positive. Si aspettava una partita così equilibrata come l'avevate preparata in settimana? Sì, una partita dove noi sapevamo che se concedevamo spazio il Gubbio con Marchi e con Casiraghi poteva farci male. li abbiamo contenuti bene, direi abbiamo fatto una buona prestazione. Grazie mille.